Escludere, precludere o includere. Ogni scelta implica una rinuncia e spesso dover lasciare andare è molto difficile, escludere non sembra essere sempre la scelta giusta, ma includere forse è ancora più difficile che lasciare andare. Quanto siamo disposti ad accettare della nostra vita e nella nostra vita? Non c'è una risposta giusta o sbagliata, non c'è una risposta assoluta, ci sono sempre risposte relative e nessuno ha la verità. Buona scelta, buona Pasqua, buone riflessioni.